Vediamo le stesse cose dei video precedenti spiegate dal libro Amaldi, che comincia con l'ipotesi di Maxwell di aggiungere un termine, il termine mancante, all'equazione la legge di Ampere, secondo cui il campo induzione magnetica, la sua circuitazione, lungo una linea chiusa L, è generata dalla corrente elettrica di conduzione che attraversa questa linea chiusa. Maxwell propose di aggiungere il termine che esprime le variazioni del flusso elettrico in analogia con il termine che era stato aggiunto, questo, alla circuitazione del campo elettrico che dal valore 0, circuitazione del campo elettrostatico, 0, era invece diventata la circuitazione del campo elettrico uguale a meno la rapidità di variazione del flusso magnetico. Dunque qui era stato aggiunto un termine che era la variazione del flusso magnetico, rapidità di variazione e allora Maxwell propose di aggiungere un termine con la rapidità di variazione del campo elettrico anche nella legge di Ampere. Come abbiamo già detto Maxwell ragionò sul processo di carica di un condensatore, il cosiddetto transiente di carica, cioè quell'intervallo di tempo in cui arriva la corrente elettrica e si deposita sulle armature del condensatore. Comunque abbiamo già descritto in dettaglio questo ragionamento nei video precedenti. Per superare la contraddizione logica di una circuitazione del campo induzione magnetica che esiste diversa da 0 attorno al filo percorso a corrente, cioè lungo i percorsi L1 e L2, non esiste invece circuitazione lungo il percorso L3 e risulta indeterminata lungo il percorso L4, dunque per superare queste contraddizioni logiche, Maxwell aggiunse la corrente di spostamento. Era il termine mancante che contiene la rapidità di variazione del flusso elettrico attraverso quella linea. Il termine aggiunto è la corrente di spostamento da calcolarsi attraverso la superficie che ha come contorno il cammino L scelto per la circuitazione. Dunque ora le correnti sono di due tipi, la corrente di conduzione e la corrente di spostamento. Qua il libro Amaldi dimostra che la corrente di spostamento ha lo stesso valore, cioè gli stessi amper, gli stessi amperaggio della corrente di conduzione. Per calcolare la corrente di spostamento, che è in pratica la derivata nel tempo del flusso elettrico, il libro considera questa superficie tra le armature del condensatore con l'obiettivo di calcolare il flusso elettrico attraverso questa superficie e poi fare la derivata rispetto al tempo. Per calcolare questo flusso elettrico calcola prima il campo elettrico che si trova tra il condensatore, che già sappiamo dall'elettrostatica vale sigma su epsilon zero. Sigma è la densità di carica superficiale presente sulle armature del condensatore e quindi sigma è la carica presente sulle armature diviso la superficie delle armature Q su S. In particolare Q è la carica all'istante T, perché questa carica è variabile nel tempo, si sta accumulando, infatti cresce nel tempo, quindi all'istante T è la carica presente sull'armatura positiva. Ora che conosciamo l'espressione del campo elettrico, calcoliamo il flusso elettrico attraverso quella superficie S, facendo il prodotto scalare fra il campo elettrico uniforme e la superficie stessa, sono due vettori allineati rivolti entrambi verso sinistra, quindi il prodotto scalare è semplicemente il prodotto dei loro moduli, questo è il modulo del campo elettrico per la superficie e quindi il risultato è la carica che si trova sull'armatura positiva in quell'istante diviso epsilon zero. Ora che abbiamo il flusso facciamo la derivata rispetto al tempo, cioè la rapidità di variazione, questa in pratica, e la moltiplichiamo per epsilon zero così abbiamo la corrente di spostamento, epsilon zero per la derivata prima rispetto al tempo del flusso elettrico, ma la derivata del flusso in pratica è la derivata della carica sul condensatore, che abbiamo già visto nei video precedenti che la derivata di Q è la corrente di conduzione normale. Quindi alla fine si trova che la corrente di spostamento è identica come valore alla corrente di conduzione che scorre nel filo. La corrente di spostamento nello spazio tra le armature è uguale all'intensità della corrente di conduzione che scorre nel circuito. Dunque all'interno del condensatore c'è comunque il campo B, la cui circuitazione è data non dalla corrente di conduzione perché non c'è nessun filo che scorre all'interno del condensatore, ma è data invece da un'altra sorgente, cioè la corrente di spostamento, che tanto ha lo stesso valore della corrente di conduzione e quindi si ottiene lo stesso valore della circuitazione di B. Cioè la circuitazione di B ha lo stesso valore lungo tutti i cammini che abbiamo scelto, L1, L2, L3 e L4. La circuitazione di B è la stessa lungo tutti e quattro questi percorsi. Cambia la sorgente fisica, qui la causa che genera la circuitazione di B è la corrente di conduzione, lo stesso anche per la circuitazione lungo L1. Per la circuitazione lungo L3 invece la sorgente della circuitazione di B è la corrente di spostamento che tanto ha lo stesso valore della corrente di conduzione e per la circuitazione lungo il percorso L4 abbiamo la corrente di spostamento che si trasforma, cioè cambia forma e diventa corrente di conduzione, tanto il valore è sempre lo stesso.